I sei è morto e anche altre due persone. Di che stai parlando? C'è un altro megalodon in giro e li ha uccisi. Un altro? Hai detto che avresti provveduto? Sì, quello l'ho ucciso, ma sua madre è enorme. Quanto? Più grande di tre autobus messi insieme. Stronzate! Guardi, è con questo che ha a che fare. Non può più tacere. C'è uno squalo di 20 metri che nuota vicino alla costa e non se ne andrà via! Bisogna avvertire le autorità! E far sapere al mondo che un mostro preistorico nuota nelle nostre acque? Non darà l'allarme? No. Bene, lo farò io.